Oggi abbiamo in studio con noi Marina Marchetti dell'Associazione Randaggi del Cuore che ci racconterà i prossimi incontri animalisti che hanno organizzato dedicati alla relazione tra umani e animali. Marina ben arrivata, iniziamo col dire le date di questi incontri, dove si svolgeranno e che saranno completamente gratuiti. Esatto, questi tre incontri saranno completamente gratuiti, si terranno a Mondolfo al Salone Aurora che si trova in Via Cavour e sono tre giornate in cui si tratterà il tema umani-animali. La prima di queste giornate sarà domenica 27 ottobre, il mattino, dalle 10 alle 12.30. La seconda sarà sabato 9 novembre, durante il pomeriggio avremo l'incontro, soprattutto la proiezione di un documentario, dalle 18 alle 20.30 e il terzo di questi incontri sarà domenica 1 dicembre, sempre il mattino, dalle 10 alle 12.30. Partiamo con l'incontro del 27 ottobre, di che cosa tratta? Allora, l'incontro del 27 ottobre è un incontro che ci permetterà di avere un relatore decisamente importante, perché è una persona che a tutto tondo ha a che fare non soltanto con il mondo animalista, ma anche con tantissimi tipi di culture. Lui è uno psicosociologo, un insegnante, un docente di scienze umane e di filosofia e ha tante conoscenze da un punto di vista antropologico. Sto parlando proprio del professor Gianluca Chiocci, che relazionerà su quelle che sono le nuove sensibilità e le nuove coscienze che la gente sembra dimostrare nei confronti degli animali. Lui ci farà esempi di culture a livello mondiale, dove gli animali hanno un certo tipo di trattamento, vengono trattati bene naturalmente, e si farà la domanda perché noi nel nostro mondo, nel vecchio continente, dobbiamo appropriarci degli animali come se fossero una merce e quindi cercherà di darci una risposta. Abbiamo il diritto di fare una cosa del genere agli animali? Fortunatamente metterà in luce anche quelle che sono le nuove sensibilità e forse qualcosa sta cambiando da questo punto di vista. Il 9 novembre, dalle 18.30 alle 20.30, ci sarà la proiezione del film Food No Profit di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosio. Ci spieghi. In questo documentario, durato 5 anni come preparazione, Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosio vogliono mettere in luce le dinamiche che si trovano dietro l'industria della carne. Ci sono le lobby, ci sono i politici e ci sono tanti soldi, ci sono tanti miliardi che vengono investiti proprio per gli allevamenti intensivi, con tutte le conseguenze che gli allevamenti intensivi comportano. Quindi scopriremo che cosa succede agli animali all'interno degli allevamenti ma anche qual è la ricaduta sulla cittadinanza, sulla popolazione e sull'ambiente perché sappiamo benissimo che gli allevamenti intensivi sono fonti di grandissimo inquinamento da tanti punti di vista. Quindi non solo sofferenza animale ma anche tante problematiche ambientali e tanto sfruttamento per quanto riguarda la manodopera e problemi anche per quanto riguarda la cittadinanza. Il primo dicembre dalle 10 alle 12.30 ci sarà invece un altro incontro, quale? Andiamo con un crescendo di emozioni perché l'argomento sarà sempre allevamenti intensivi soltanto che questa volta li vedremo proprio dall'interno perché Simone Palagiano che è un attivista ma soprattutto è un investigatore dei diritti animali ha avuto la possibilità, quotidianamente quasi, la possibilità di entrare in questi allevamenti e di documentare quello che succede. Quindi mette in luce le tante criticità, le tante sofferenze che questi animali sono costretti a sopportare. Ha dichiarato che porterà qualche filmato dove alcune scene sono state censurate perché non è naturalmente facile vedere per tutti quello che lui è riuscito a registrare però saranno sicuramente esplicative di quello che succede all'interno degli allevamenti. Bisogna prenotare per poter partecipare a questi appuntamenti? Non è necessario prenotare, il posto c'è per tutti, vi aspettiamo numerosi, naturalmente aspettiamo tutti coloro che vogliono conoscere perché è giusto conoscere quelle che sono le realtà che fino adesso magari sono state ignorate. Si può comunque, per avere maggiori informazioni, si può telefonare all'associazione I Randaggi nel Cuore oppure scrivere alla mail. Come diceva Gandhi, la civiltà di un popolo si vede dal modo in cui tratta gli animali. Grazie a tutti.